Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali. I principi centrali del decreto sono semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, riorganizzazione amministrativa, coordinamento centrale del Ministero. I porti italiani vengono riorganizzati in 15 autorità di sistema portuale, centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti core dalla Comunità Europea. Le nuove 15 autorità sostituiscono le vecchie 24 autorità portuali. L'autorità portuale di Salerno diventa sede periferica rispetto a Napoli, che diventa principale dell'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale. Un provvedimento che in pratica spazza via anni di eccellente amministrazione del porto salernitano, con numeri record e risultati che l'hanno posto al centro dei traffici del Mediterraneo. Occorrerà attendere per comprendere effettivamente quale autonomia disporrà le ex autorità portuali di Salerno, la cui governance ora dipenderà da Napoli, commissariata da oltre tre anni. Probabilmente un grave errore di valutazione del Ministero, che non ha voluto applicare lo stesso criterio valido per altre regioni, che si ritroveranno due autorità portuali, addirittura la Puglia una in più. Il vero problema è che Salerno rischia di pagare le criticità di Napoli, oltre a non poter partecipare direttamente ai progetti dell'Europa e ai relativi bandi. Salerno quindi diventa ufficio territoriale con un segretario generale. Lo sforzo del Premier Renzi per modernizzare l'Italia merita il massimo incoraggiamento, parola del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. È un fatto storico, ha detto, se si conclude il cammino delle riforme istituzionali per modernizzare un Paese che deve correre superando i poteri di veto. Non tutto è perfetto, ha aggiunto De Luca, ma sicuramente non possiamo perdere più di un minuto di tempo rispetto all'obiettivo di snellire e semplificare la pubblica amministrazione. Perciò è un risultato storico eliminare il Senato come Camera che fa le stesse cose della Camera dei Deputati e abolire le province. Si tratta ora di chiarire i rapporti tra Stato e Regioni. Un chiarimento sulle competenze, ha detto De Luca, non può che essere nel merito. Poi andrà discusso cosa aspetta allo Stato e cosa alle autonomie locali, che non vanno intaccate da spinte centralistiche per evitare di riprodurre la palude burocratica da cui si cerca di uscire. I poteri delle Regioni sono incancellabili. Uno dei temi di discussione sarà quello della riforma dei porti. Bisogna rispettare i poteri e le funzioni delle Regioni, avverte De Luca, se qualcuno immagina di nominare da Roma è fuori strada. Le Regioni non possono essere scavalcate, per questo faremo valere le nostre posizioni in sede parlamentare e in conferenza Stato-Regioni. In questo senso, conclude De Luca, Ligure e Campania hanno già fatto valere le loro ragioni. Si chiude una vicenda surreale dove qualcuno ha cercato di far passare l'accusatore per l'accusato. Così l'ex PM Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli, commenta le motivazioni della sentenza di appello del processo Why Not, che si è concluso con la soluzione per assenza di reato. De Magistris, che fu condannato in primo grado, ha ricordato che si è trattato di una vicenda molto dolorosa, perché ha spiegato per mesi e stata nelle prime pagine dei giornali e se ne è discusso i luoghi istituzionali. Sono stato aggiunto duramente colpito e condannato in primo grado con una sentenza incredibile, ma ha proseguito. Finalmente abbiamo trovato giudici onesti e coraggiosi che hanno messo la parola a fine. De Magistris tuttavia sottolinea che ormai il danno prodotto non è più recuperabile, perché l'inchiesta mi è stata sottratta illecitamente. Inoltre sta anche per chiudersi un processo a Salerno per corruzione in atti giudiziari, che vede imputati tra gli altri vertici degli uffici giudiziari dell'epoca proprio per la sottrazione illecita del processo Why Not. Saranno Federica Panicucci e DJ Francesco i presentatori dell'edizione 2016 del Carnevale Palmese di Palma Campania, che si terrà il 7, l'8 e il 9 febbraio. A darne notizie è stato il presidente della Fondazione Carnevale Palmese, Daniele Rainone, nel corso di una conferenza stampa per presentare il Carnevale e svelare i nomi degli ospiti, oltre che le altre iniziative della festa. Federica Panicucci presenterà la serata di domenica 7 febbraio, mentre Francesco Facchinetti quella di martedì 9. Si tratta di nomi importanti che hanno accettato con entusiasmo e porteranno un contributo di ulteriore popolarità ad una festa che è già bellissima e che vedrà protagoniste quattro quadriglie. Il nostro quest'anno sarà uno dei carnevali sicuramente più interessanti del periodo, anche perché avremo un po' di ospiti di un certo livello, soprattutto la presentatrice che sarà la Panicucci, Federica Panicucci e il DJ Francesco Facchinetti, sarà poi il presentatore del martedì Grasso. L'amministrazione comunale anche quest'anno naturalmente manterrà alto il tono della nostra tradizione con un'organizzazione di un certo livello e in effetti quest'anno avremo un bel gruppo di quadriglie che si esibiranno in temi di un certo interesse. Infatti quest'anno avremo dei temi che si ispirano qualcuno alla fantasia, quindi come lo schiaccianoci di Tchaikovsky, altri invece alla fantasia di fumetti come i fumetti di Marvel e poi c'è l'Africa e questi sono i temi più importanti di quest'anno. Naturalmente il tutto sarà contornato da una coreografia, da una scenografia organizzata nei minimi particolari. Infatti il nostro paese è già notevolmente addobbato con maschere luminose che saranno appunto presenti per tutto il periodo. La pubblicità che sarà fatta è una pubblicità di primo livello anche perché sia a livello di giornali che a livello televisivo sarà fatta una pubblicità di grosso livello proprio per mantenere alto il tono della nostra tradizione e della nostra manifestazione. L'amministrazione è tutta compatta nell'organizzare l'evento e nell'aiutare la fondazione Carnevale a mantenere questa nostra tradizione tra le prime nel territorio campano e soprattutto a livello nazionale. Un'edizione che ci vede protesi a dare il massimo e a cercare di fare una grande manifestazione. Sono stati annunciati anche i presentatori del Carnevale, quindi quest'anno i presentatori del Carnevale saranno Federica Panicucci e Francesco Facchinetti, si attendono altri ospiti graditi e quindi la macchina del divertimento in azione sicuramente daremo una soddisfazione e piacere alle migliaia di visitatori che raggiungeranno Palma Campani. Vi aspettiamo 7, 8 e 9 febbraio 2016.